E' arrivato un pacco, con una lettera. Noi vediamo, la posso leggere? No, no. Voi avremo i pacchi, no? Caro Samuele, sono Olli. Volevo sapere se il completino della New Team ti andava bene. Questo è un piccolo pensiero per te, Samuele, e spero ti piaccia. Comportati sempre bene e studia tanto tanto. So che stai mangiando tanto, bravo, così diventi forte, forte come me. Ti voglio tanto bene, il tuo Olli. Tieni, aprilo. Vediamo che cos'è, secondo te che cos'è? Però la busta è piccola, secondo me non c'è niente dentro. Faccialo qui. Che cos'è? Olli! Oh mio Dio, Olli! Olli, fammi vedere! Faglielo vedere a papà! Ed ecco Oliver Hutton! Faglielo vedere. Com'è Benji? Chissà, forse te lo spedisce a Benji. Com'è? E' bello! E ringrazia Olli! Ciao! Ciao! Fai vedere Olli? Ciao! Ti piace? Sei felice? Sei felice? Ciao! 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 Ciao!